Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto, una puntata particolare quella di oggi perché parliamo di un tema prettamente di carattere locale ma anche nazionale, oggi è un giorno particolare, il 6 di marzo sono partite infatti le domande per il reddito di solidarietà, il reddito di cittadinanza, che è un po' l'argomento del giorno anche guardando tutte le agenzie di stampa, un argomento che noi cercheremo di approfondire con due ospiti che ci raggiungono da Bologna, in realtà una ancora deve arrivare, anzi li ringrazio partendo da Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Ciao, buonasera. Ci deve raggiungere Nadia Rossi, consigliere regionale del PD, entrambi vengono da una commissione che si è svolta proprio nel pomeriggio, quindi c'è stato qualche inghippo, un po' di traffico, noi intanto partiamo, non potevamo aspettare oltre, però partiamo facendo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, abbiamo in questo servizio di apertura preso lo spot che era stato girato proprio per lanciare il reddito di cittadinanza con alcuni anche dettagli relativi alle modalità per presentare la domanda e poi in coda sentiamo anche un stralcio dell'intervento del vice premier Di Maio quando è stato presentato proprio il sito dedicato al reddito di cittadinanza. E allora il servizio. Il reddito di cittadinanza è legge. Presenta la domanda dal 6 marzo sul sito del reddito di cittadinanza negli uffici postali o ai CAF. Puoi farlo online con l'identità digitale Speed e in ogni caso con l'ISEE aggiornato. Richiedili subito. Chi ne ha diritto? Possono richiederlo cittadini italiani, europei, lungosoggiornanti, residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per accedere al reddito di cittadinanza è necessario avere alcuni requisiti. Per esempio, il tuo ISEE aggiornato deve essere inferiore a 9.360 euro annui. Il tuo patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non deve superare i 30.000 euro. E il tuo patrimonio finanziario deve essere inferiore ai 6.000 euro. Il limite cambia se il tuo nucleo familiare è numeroso o se conta persone con disabilità. Nessuno dei componenti familiari deve aver lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti. Per tutte le richieste presentate, l'IMS verificherà l'esistenza dei requisiti necessari. Se la domanda sarà accettata, ti sarà comunicato a fine aprile quando e in quale ufficio postale potrai ritirare la carta del reddito di cittadinanza sulla quale saranno via via caricate le varie mensilità. Dopo l'accettazione, sarai contattato dai centri per l'impiego o dal comune, per avviare la tua formazione e l'inserimento lavorativo o un programma di inclusione attiva. Ricorda che hai tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda per maturare il contributo già dal mese di aprile. Il beneficio economico varierà in base a diversi parametri. Se vivi da solo, ad esempio, potrai ricevere fino a 780 euro al mese, fino a 1.280 euro se la tua famiglia è composta da due adulti e due figli, di cui uno maggiorenne. Per i requisiti vai sul sito. Reddito di cittadinanza. Una rivoluzione per il mondo del lavoro. Quella che vedete è la numero uno. La numero uno che è numerata come prima card stampata da poste italiane e che non potrà essere utilizzata per il gioco d'azzardo, non potrà essere utilizzata per una spesa che ha distrutto le famiglie italiane. È la card su cui lo Stato italiano erogherà a 5 milioni di persone coinvolte, 1.700.000 famiglie, sia il reddito di cittadinanza che la pensione di cittadinanza. Non dimentichiamo che nel programma del reddito ci sono anche i nonni, quei nonni, 500.000 nonni che in Italia vivono in una condizione di difficoltà e di povertà e che noi porteremo a 780 euro minimo per 500.000 persone. Bretagna, abbiamo dato qualche dettaglio agevolati anche da questo servizio. Oggi è una giornata importante per il Movimento 5 Stelle perché questo è uno dei provvedimenti un po' simbolo del Movimento. Sì, oggi è una bella giornata perché è una bella giornata, come dicevi, per il Movimento 5 Stelle perché porta a compimento un sogno e una promessa. Un sogno che è nato nel 2013 e una promessa, una richiesta che abbiamo fatto in diversi anni di legislatura sia in Parlamento che in Regione Emilia Romagna e che abbiamo testimoniato nelle marce fra Perugia e Assisi per appunto sostenerlo. Ma è una bella giornata anche per i cittadini italiani, soprattutto per quelli che si trovano in difficoltà perché l'obiettivo del reddito di cittadinanza è finalmente rimuovere quelle disuguaglianze che si sono rafforzate in questi anni, 5 milioni di poveri, 1 milione e 3, 1 milione e 6, 1 milione e 9, secondo delle stime, di famiglie in difficoltà e che ad oggi cominciano un percorso tramite queste risorse di reinserimento e formazione per rientrare nel cerco del lavoro e durante questa ricerca hanno un sostegno per poter vivere dignitosamente. L'orvedimento che abbiamo sentito è stato anche oggetto di molte critiche nel corso dei mesi, una era quella anche del trovare i fondi necessari, qualcuno ha detto che questi fondi in realtà non ci sono. I fondi come abbiamo sempre detto dalla prima proposta di legge certificata anche dalla rigeneria dello Stato c'erano e ci sono, ovviamente nel percorso di affinamento del procedimento si è stanziato quello che serve per quest'anno, sapendo già che si parte circa da aprile, anche l'Inps nella sua relazione ha certificato che in base alle stime di reddito e di numero delle famiglie quei 7 miliardi circa che sono stati stanziati sono sufficienti più un miliardo per rafforzare e riqualificare i centri per l'impiego. Questo è quello che serviva e questo è quello che abbiamo messo nella manovra di bilancio. In questo primo giorno si fa un po' ancora, insomma non ci sono le stime definitive ma anche un bilancio di quello che è stato l'avvio perché c'è un po' di timore anche su questo. In realtà leggendo anche le agenzie che sono uscite si parla di un avvio soft per quanto riguarda anche le domande. Sì certo, mentre ieri si parlava di catastrofe annunciata per oggi per le file, l'assalto alle poste eccetera, invece oggi le richieste sono partite in maniera ordinata anche grazie ai CAF, fra l'altro un ringraziamento a chi lavora nei CAF, a chi lavora alle poste perché questo è un nuovo percorso per tutti e quindi grazie ai CAF e grazie alle poste si parla di circa, almeno alle poste circa 30 mila richieste, anche il CAF sentivo prima la radio qui a Rimini mi pare ci siano circa 200 richieste, più o meno sono circa 200 richieste anche nelle province qui attorno. Non vorrei che domani, visto che ieri si parlava di catastrofe per le file, domani si parli di flop, io penso che non sia un flop, è un inizio ordinato che è quello che deve essere perché per questo mese si è tempo ad oggi fino al 31 di marzo, poi queste domande avranno evasione in circa 15-30 giorni e poi a partire dal 5 aprile e al 5 di ogni mese si potranno fare le domande, quindi non c'è fretta, ognuno prepara la sua situazione, compila i moduli, fa le sé e si presenta se ha i requisiti. Tra l'altro ricordiamo, si è partiti con le domande però ancora c'è il famigerato famoso decretone che deve ancora passare al vaglio del Parlamento. Sì, nel decretone essenzialmente mi sembra di aver capito che cambierà poco, qualche requisito in più e quindi probabilmente dovranno essere adeguati i moduli che in questi giorni si stanno facendo, ma soprattutto nel decretone c'è un aspetto che si sta chiarendo che è quello della collaborazione con le regioni, perché una parte fondamentale del progetto del reddito di cittadinanza è il lavoro dei centri dell'impiego, centri dell'impiego che purtroppo negli anni sono stati sempre molto depotenziati. Uno degli strumenti è il concorso regionale per aggiungere 4.000 lavoratori all'interno del centro dell'impiego più i 6.000 che sono i famosi navigator. Su questo c'è ancora un po' di discussione e secondo me anche troppa polemica da parte delle regioni e all'interno del decreto si andrà ad affinare anche questa parte qui, perché forse si parla di un numero inferiore scelti dall'AMPAL, quindi dal governo centrale, è un numero maggiore per quanto riguarda le regioni, ma sono dettagli. Ha accennato lei ai navigator, che è un po' delle figure intorno alle quali si è creata anche un alone di mistero, ma chi saranno questi navigator, cosa faranno, anche perché il nome insomma richiama anche altre cose, ci puoi spiegare questa figura che ruolo avrà? Sì, il nome lo ammetto, per me non è felice si poteva usare un nome più italiano. Nei centri per l'impiego di Rimini qualcuno si è presentato dicendo che voleva fare il Terminator, non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa, il navigator essenzialmente è una persona che ti indica la rotta e ti aiuterà nel tuo piano di riqualificazione, perché qual è l'idea del reddito di cittadinanza? Ti do un aiuto per ricollocarti all'interno del mondo del lavoro, intanto il centro dell'impiego deve diventare un catalizzatore di domande e di offerta, quello che fino ad oggi non è riuscito a fare, perché mi sembra la statistica dell'Emilia Romagna, i centri per l'impiego trovino occupazione per il 5% di quelli che si rivolgono lì. Il navigator è una persona che ti aiuta a capire quali sono le tue competenze e capisce quali sono le competenze richieste dalle imprese e ti crea un percorso di formazione, quindi sono dei tutor essenzialmente, quindi diventerà importante anche il percorso di formazione, ad esempio in questi giorni si sta discutendo molto che sono importanti le middle skills, cioè quelle competenze informatiche di base o medie, molti non le hanno, soprattutto anche chi è uscito dal circuito del lavoro cinquantenni o anche più, che magari non sono formati su questi aspetti, il navigator assieme agli enti di formazione servirà a dire guarda a te ti serve imparare a usare gli strumenti di Google, gli strumenti social eccetera e con questi poi sarai più abile ad entrare nel mondo del lavoro di nuovo. Si attendeva in questa giornata un po' particolare insomma una eco-mediatica abbastanza forte e lei diceva il rischio è che domani qualcuno dica non c'è stata la fila quindi è stato un flop, vi sentite un po' i riflettori accesi in queste giornate su questo provvedimento? Sì, ma io sono contento che ci siano i riflettori accesi su questo provvedimento in questi giorni, sento in televisione, in radio parlare, sento intervistare i cittadini, ho visto anche il servizio delle Ieni ieri, in cui ci sono persone normali che si sono trovate in difficoltà e oggi mi sembra di sentirle felici di trovare un'occasione. Fra l'altro sentivo anche sempre oggi alla radio ma anche leggevo qualche articolo la cosa che sta colpendo di più e che a me ha colpito di più è che i centri dell'impiego anche qui a Rimini dicono rivediamo persone che erano anni che non vedevamo, cioè l'idea è che stiamo riattivando delle persone che erano usciti dai circuiti e dei centri dell'impiego e dei centri di formazioni, si erano rifugiati in un limbo in cui non facevano nulla. Stessa cosa anche i CAF stanno dicendo oggi e vengono persone che noi non intercettavamo, non erano persone che venivano a fare l'ISEE, non erano persone che venivano a fare le dichiarazioni dei redditi, sono persone che si stanno riattivando. Questo secondo me è il segnale più bello di questa giornata. Cos'è che differenzia il reddito di cittadinanza dai sistemi precedenti? Parliamo del reddito di inclusione innanzitutto a livello nazionale, poi a livello regionale c'era il RES, il reddito di solidarietà. Diciamo che il reddito di cittadinanza è un'evoluzione, un ampliamento ma anche qualcosa di diverso. Il REI ed il RES erano strumenti soprattutto di aiuto a famiglie in estrema povertà. In Emilia Romagna ma anche con REI si era partiti con una soglia ISEE di 3.000 euro, quindi una platea molto ristretta con persone e famiglie con povertà estrema e su questo sicuramente c'era urgenza di partire. Con la seconda fase si è arrivato ad una platea con un ISEE di 6.000 euro e adesso con il reddito di cittadinanza la platea si ampia ancora di più fino ad arrivare a circa quei 5 milioni di persone con un ISEE non superiore ai 9.000 euro. Quindi il primo passo è che la platea si è allargata. L'altro aspetto è che anche l'importo che viene erogato è un importo maggiore e significativo, mentre prima si parlava di 150-300 euro che si può arrivare fino a 780 euro, una parte per i consumi e una parte per l'affitto, e l'altro aspetto è quello dell'attivazione, perché il REI e il RES in realtà non prevedevano un percorso così puntuale di formazione e di reinserimento del lavoro, cioè i centri per l'impiego entravano marginalmente. In Emilia Romagna la legge dei fragili, diciamo che è una legge che in parte includeva anche il RES ma era rivolto a chi si trovava in difficoltà, ha coinvolto circa 10.000 persone, solo 2.000 circa di queste sono state mandate verso i centri per l'impiego, quindi un quinto. Il reddito di cittadinanza prevede che saranno almeno un terzo quelli che si attiveranno dal punto di vista lavorativo. Leggendo anche le agenzie battute nella giornata di oggi c'è una dichiarazione, una perplessità che arriva dalla CEI, gliela leggo così magari può darmi la sua versione. Tra i rischi del reddito di cittadinanza vi è quello di attenuare la spinta a cercare lavoro o a convincere, a rinunciare a offerte di lavoro che prevedono una retribuzione non distante da quanto previsto dal reddito. Questo dice appunto l'Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale del Lavoro della CEI e il Comitato Scientifico dei Settimanali Sociali dei Cattolici, tra l'altro in un'audizione alla Camera proprio dedicata al decretone di cui parlavamo anche prima. E' enorme, aggiungono poi il rischio di aumentare queste forme di cittadinanza non solo passiva ma anche parassitaria nei confronti dello Stato. Sì, io penso che il reddito di cittadinanza riceve due tipi di critiche, una diciamo di tipo filosofico e una di tipo attuativo. Qui siamo più nelle critiche di tipo filosofico. C'è qualcuno che dice che tutti hanno diritto a un reddito base e quello sarebbe il reddito base minimo garantito per tutti senza condizionalità. Ci sono esperimenti in tutto il mondo, in Finlandia ma pure in Kenya si sta sperimentando un reddito base incondizionato per capire se è vero che se ti do un reddito incondizionato tu tendi a disattivarti piuttosto che ad attivarti. In Kenya c'è questa grande iniziativa basata su un ente caritativo americano in cui sono coinvolte circa 20.000 persone divise in alcuni villaggi, una ventina di villaggi in cui verrà dato un rendito incondizionato per 12 anni, in un'altra ottantina di villaggi solo per due anni in un altro centinaio di villaggi nulla. I primi confronti che si stanno facendo danno un dato un po' controintuitivo. Noi pensiamo se ti diamo dei soldi tu non fai nulla, invece i primi dati dicono tu li spendi per le esigenze base della tua famiglia, non li sperperi in alcol e gioco d'azzardo, quindi prima pensi alla tua famiglia e poi le investi per cominciare a fare qualche cosa, per cominciare ad attivarti anche dal punto di vista lavorativo. Io penso che anche in Italia sarà così, il rischio che qualcuno non faccia nulla c'è, ma io penso che invece sia più l'aspetto positivo di attivare le persone. Sempre nelle agenzie, nelle notizie arrivate in giornata c'è una dichiarazione invece del Presidente delle ACLI, Filippo Diaco, che dice se il decreto verrà approvato senza correttivi andremo incontro a diversi problemi, l'operatività ha preceduto la legge e quindi rischiamo di illudere molte persone che poi si vedranno togliere il beneficio. Cosa risponde? Questo è quello che dicevamo prima dell'approvazione in corsa del decreto, io penso che non ci siano così tanti vincoli che facciano decadere quelli che lo fanno in questo primo mese. L'altro aspetto che dicevo è che ci sono comunque, quindi non è un reddito minimo per tutti, ma ci sono delle condizioni, queste condizionalità verranno verificate e anche qui ci sono delle regole molto rigide perché tu rimanga dentro, quindi non è ammesso che tu faccia del lavoro nero, non è ammesso che tu faccia delle dichiarazioni mendaci, non è ammesso che tu tarocchi il tuo ISE cambiando residenza eccetera. Chi farà questo verrà punito perché noi stiamo dando delle risorse di tutte a chi ha bisogno, chi le sfrutta in maniera impropria deve essere punito e quindi questo è un aspetto importante. Chi è chiamato a controllare su queste cose, a vigilare? Sicuramente ci saranno dei controlli, saranno anche in base all'IMSS come succede anche per l'ISEE in cui ci sono delle verifiche, anche qui sicuramente ci sono le verifiche incrociate fra centro dell'impiego, l'IMSS e agenzia delle entrate. E allora adesso andiamo a sentire, a vedere un altro servizio, questa mattina il nostro Maurizio Ceccherini è andato a fare un giro al CAF ACLI qua in centro storico a Rimini raccogliendo la testimonianza di una persona che era lì in attesa, che aveva presentato la domanda e anche quella di chi gestisce il CAF per sapere un po' come è andata questa prima giornata. Allora vediamo. Sono stato contento perché sono venuto stamattina, mi sono segnato, mi hanno dato più o meno un orario, l'orario è stato rispettato perché sono aspettato quei 15-20 minuti che ci sta, è normale, mi hanno dato tutte le formazioni che mi servivano. Già stamattina alle 7 abbiamo aperto gli uffici, abbiamo le postazioni operative fino a questa sera alle 19.30, riusciamo ad accogliere circa 250 persone al giorno per cui stiamo riuscendo a gestire abbastanza bene i flussi che per adesso si sono mantenuti abbastanza intensi. Abbiamo cercato di allargarci perché altrimenti rischiavamo di non riuscire a supportare tutto il flusso per cui ci siamo venuti a appoggiare anche in sede provinciale qui delle ACLI a Rimini per dare ulteriormente accoglienza a questo tipo di domanda. Il nostro lavoro in questo momento è anche molto di tipo informativo, divulgativo, stiamo spiegando cosa accade anche e soprattutto dopo aver fatto la domanda perché questa è la carenza più grande per cui bisogna aspettare che arrivi un sms dall'Inps nella seconda metà di aprile che eventualmente dirà se la domanda è stata accettata o meno, se la domanda è stata accettata entro 30 giorni la persona deve recarsi presso un centro per l'impiego per firmare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e contestualmente riceverà anche un altro sms dalle poste italiane che lo inviteranno in un luogo e in un ufficio postale specifico in una data specifica ad andare a ritirare la card e a quel punto il circuito è chiuso. È già da qualche mese che per tutte queste persone abbiamo in realtà compilato le certificazioni ISE e siamo stati attenti anche all'evoluzione sia della normativa come decreto sia a quello che sta avvenendo adesso in sede di conversione parlamentare, qualcosina cambierà però a tutti gli effetti adesso le domande intanto partono e via. Per accedere ai vostri servizi in questi giorni come bisogna contattarvi? No, basta venire qui da noi, c'è una sorta di lista di attesa che riusciamo a dare indicativamente a che ora e in che giorno si farà la domanda per cui riusciamo a gestire i flussi abbastanza bene può presentarsi chiunque, non abbiamo fatto differenziazioni di lettere, numeri, di lettere alfabetiche perché per esempio le poste oggi si potevano presentare solo i soggetti con l'A e la B noi stiamo accogliendo tutti per cui riusciamo a gestirle abbastanza bene. Loro faranno la domanda all'Inps e l'Inps come hanno detto loro stabilirà quanto e cosa devo avere io dopodiché è finito, viene tutto quanto automatico. Grazie bocca al lupo! Grazie tanto, arrivederci! Abbiamo raccolto anche la voce del signore che era impegnato, è andato di stamattina in altri caffra si dice che c'era un po' di fila, questa mattina l'apertura quanto tempo ci vorrà perché vada un po' a regime questo sistema? In teoria Inps ha detto che già le prime risposte saranno in grado di darle a metà aprile o comunque diciamo entro a fine aprile. L'altro pezzo importante è quello successivo che è quello dell'attivazione perché il reddito ha due pilastri, uno è l'attivazione lavorativa quindi se tu sei in grado di rientrare nel mondo del lavoro tramite magari anche un percorso di formazione andrai presso un centro del lavoro quindi adesso la seconda fase è quella di far partire e riqualificare bene i centri per l'impiego perché è lì che si svolge la parte fondamentale l'altra parte invece è se è valutato che non riesci immediatamente ad essere riattivato nel mondo del lavoro c'è un patto di attivazione sociale che è quello tramite i comuni che è quello che già succedeva in parte con il REI fra l'altro anche qui ci sono molte risorse che vengono indirizzate ai servizi sociali si parla di raddoppiare e poi triplicare i soldi, le risorse che venivano date ai comuni proprio per il patto di attivazione sociale che è quello che poi in parte ti richiede di dedicare un po' di tempo per il tuo comune anche qui ci sarà una fase organizzativa qualcuno ha detto avete corso troppo, siete stati troppo veloci è vero, è vero, si è sentito però io penso che c'era un'urgenza di rispondere a questa domanda leggevo ieri una simpatica affermazione di De Masi, il sociologo che dice l'uomo si pone tre domande fondamentali chi siamo, dove andiamo e cosa mangeremo questa sera chi diciamo sostanzialmente sopravvive e vive bene può perdere tempo a rispondere alle prime due domande chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena ha urgenza di rispondere alla terza domanda cosa mangeremo questa sera allora c'era urgenza di dare questo tipo di risposta un altro tema sul quale c'è un po' di discussione è quello dell'accesso degli stranieri al reddito di cittadinanza leggo adesso sempre online che c'è un'associazione di studi giuridici sull'immigrazione che dice che alcuni aspetti del reddito di cittadinanza sarebbero incostituzionali perché penalizzano gli stranieri sappiamo che c'è l'obbligo di essere in possesso di un permesso di lungo soggiorno quindi si punta su questo e sul fatto che comporta un reddito minimo di 6 mila euro l'anno che non è richiesto invece per gli italiani cosa risponde? che anche nel REI e anche nel resto della regione Emilia Romagna c'erano dei limiti per quanto riguardava gli stranieri o i non residenti e ad esempio nella legge dell'Emilia Romagna si parlava di almeno due anni di residenza in regione quindi alcuni limiti vanno messi e io penso che siano in questo momento anche qui per capire le risorse a disposizione poi più avanti se ne può parlare l'altro aspetto è che noi siamo al governo con un'altra forza che su questi aspetti è molto più rigida e quindi anche su questo tocca trovare una sorta di mediazione Ci sono tutta una serie di questioni sollevate sul reddito di cittadinanza come sempre le cose nuove richiedono anche tempo per digerirle come vede l'atteggiamento delle altre forze politiche nei confronti di questo provvedimento? Purtroppo io registro soprattutto la posizione del PD molto critica a me ha lasciato di stucco Lo ricordo a chi ci segue da casa doveva essere nostra ospite anche Nadia Rossi del PD del consigliere regionale del PD ma ancora non è arrivata noi purtroppo si abbiamo aspettato finché si poteva adesso stiamo proseguendo comunque risponda pure Sì certo dicevo mi ha colpito i primi giorni in cui è uscito il decreto Gozzi che è un ex parlamentare della nostra zona ha detto che lui avrebbe raccolto le firme per un referendum aborogativo contro i redditi di cittadinanza io penso che questo sia un insulto per le persone che si trovano in questo momento in difficoltà l'altro aspetto è che abbiamo ricevuto tante critiche ma molto contraddittorie da una parte si dice volete lasciare le persone sul divano e dall'altra parte ci dicono che ci sono delle regole troppo restrittive non vogliamo lasciare la gente sul divano e quindi bisogna attivarsi ma le regole restrittive appunto andavano messe per chi vuole fare il furbo da una parte ci dicono volete bucare il bilancio dello Stato perché avete messo troppe risorse e dall'altra parte ci dicono la platea è troppo piccola ecco secondo me mi sembrano critiche molto strumentali forse anche con un po' di invidia perché alcune forze di sinistra forse avrebbero voluto averlo fatto già da anni ma non ci sono riuscite qualcosa oggi però in inizio di giornata non è andato per il verso giusto perché ricordiamo ci sono stati dei problemi relativi allo speed in modo particolare che è fondamentale per poter presentare le domande ecco ci spiego un po' quel che è successo in realtà i canali sono tre uno è tramite il CAF l'altro tramite la poste e l'altro un fai da te tramite il sito dedicato al quale si accede tramite speed speed è diciamo l'identità digitale che serve appunto per essere riconosciuto dal punto di vista informatico ci sono tanti gestori di questo speed due che erano mi sembra team e post italiani hanno funzionato da subito gli altri fino alle 11 di questa mattina hanno avuto qualche problema ma dalle 11 in avanti il problema si è risolto il sito sembra che funzioni funzionava già non ci sono stati anche qui c'era la paura che troppi accessi lo facessero crollare ma non ho notizie in realtà c'è tutto il mese di tempo quindi insomma non è neanche necessario accalcarsi nel primo giorno altra cosa insomma io faccio un po' la controparte in questo caso visto che al momento manca altra dichiarazione che arriva invece dal responsabile del CAF CISL risale alla giornata di ieri vedranno alcune perplessità in merito a questi moduli si parla dei tre diversi moduli per richiedere il reddito di cittadinanza composti di quattro pagine di spiegazioni e cinque da compilare soprattutto per la comprensione del modulo considerando appunto che ci saranno anche numerosi immigrati che faranno queste richieste ci potrebbero essere dei problemi e delle difficoltà io penso che la professionalità dei CAF superi facilmente queste difficoltà del resto anche per compilare un modello ISEE io quest'anno ho il figlio che è andato all'università ho fatto il modello ISEE non è semplice compilare anche un modello ISEE raccogliere tutta la documentazione e tutto quanto sono andato a un CAF e il CAF è stato in grado di compilare tutto quanto io penso che i CAF riusciranno molto bene a superare diciamo il fatto che prima bisogna impararlo ma una volta fatti i primi dieci penso che non ci sia nessun tipo di problema e allora l'ultimo contributo della puntata di oggi in questo caso sentiamo un'intervista che abbiamo realizzato telefonicamente in mattinata con Paola Taddei della CISL Romagna sentiamo a suo dire quali sono appunto le criticità che si possono registrare in questo momento sentiamo e poi commentiamo insieme Questi emendamenti che sono in discussione potrebbero cambiare notevolmente quello che sono i requisiti necessari con rischio poi di avere dei contenziosi perché attualmente noi facciamo la domanda in base a quello che è stato previsto dal decreto che però non è stato ancora convertito in legge e la cosa che mi preoccupa di più oggi come oggi rispetto a quello che era un sistema precedente che era il REI che a nostro avviso aveva iniziato a funzionare bene anche se aveva delle caratteristiche diverse perché in quel caso lì l'ISE era molto più basso per poter accedere però era un buon meccanismo che era partito ed era partito bene qui il rischio più grosso che noi vediamo è che questo diventi un sussidio e non sia invece come noi abbiamo richiesto in tutte le sedi dove c'è l'approccio al tema della povertà uno strumento che dia invece la capacità di attivare un lavoro quindi rispetto per la persona che ha un contributo ma nello stesso tempo gli viene data la possibilità di integrare integrarsi nella società attraverso il lavoro se non c'è diciamo così la seconda fase di questo reddito di cittadinanza che è uno il sussidio ma l'altro è la proposta di ben tre possibilità di lavoro ecco questo direi che è il tema che ci preoccupa di più in un territorio come quello riminese dove purtroppo sul tema del lavoro e della qualità del lavoro abbiamo diverse difficoltà ecco quindi vedremo come effettivamente questo questo reddito di cittadinanza verrà implementato sviluppato in tutte le sue parti perché per il momento con la domanda è molto monco rispetto alla parte più importante che è quella del lavoro Bertania alcune sollecitazioni arrivano insomma alcuni andiamo con ordine all'inizio l'Ataday parlava di un rischio di contenziosi si ritorna sempre al fatto che ancora alcuni ammendamenti devono essere approvati lei ci ha già detto nel corso di trasmissione che ritiene che non ci saranno modifiche sostanziali però insomma se vogliamo ribadirlo ulteriormente sì io ritengo appunto che le modifiche non saranno sostanziali quando sarà approvata in maniera definitiva il modulo sarà aggiornato ma nel frattempo quello che conta è la verifica dell'Inps e l'Inps quando farà la verifica lo farà già a decreto aggiornato ma eventualmente probabilmente verranno chieste delle integrazioni l'altro aspetto invece sul quale io non concordo molto è quello della attivazione verso non attivazione il REI e abbiamo i dati della Regione Emilia-Romagna non attivava le persone su 10.000 richieste ne abbiamo circa 2.000 che hanno attivato un percorso presso i centri dell'impiego quindi anche il REI non era uno strumento che attivava le persone l'obiettivo del reddito di cittadinanza è fare meglio del REI e quindi attivare più persone oltre ovviamente a aver allargato la platea questo sarà poi quello che dovranno fare i centri dell'impiego che è il passo successivo e la sfida parte da maggio infatti Tadei poi parlava di questo problema legato al lavoro al fatto anche che poi il lavoro nella realtà riminesa a cui lei faceva Cenno ma insomma un po' anche in altre realtà della Romagna non è così semplice così come non è semplice quindi attivare nuovi rapporti di lavoro sì il problema è vero è anche questo non c'è tanta richiesta di lavoro però ci sono anche secondo me tante imprese che cercano e non trovano perché non hanno i canali giusti oppure non hanno le persone formate quindi un'azienda che cerca un saldatore non sempre trova un saldatore magari qualcuno che ha fatto un lavoro similare e con un piccolo percorso di formazione è in grado di farlo soddisferà la richiesta di quell'azienda la speranza è che si innesti un circolo virtuoso anche perché io quello che credo ed è veramente quello che penso riuscirà a fare il reddito è quello di diminuire le disuguaglianze sociali un paese che ha troppe disuguaglianze sociali fa più fatica a crescere le disuguaglianze diminuiscono la coesione sociale e fanno più fatica a far crescere un paese diminuendo le disuguaglianze penso che il nostro paese crescerà meglio e quindi anche quegli obiettivi di crescita saranno centrati e quindi probabilmente aumenterà anche la richiesta di lavoro qualche giorno fa leggevo un suo intervento critico nei confronti della giunta regionale insomma degli esponenti della maggioranza in regione lei ha detto stanno boicottando vogliono boicottare il reddito di cittadinanza ci spieghi cosa era successo sì abbiamo presentato una risoluzione nell'ultima assemblea in cui chiedevamo appunto che la regione si attivasse in maniera forte soprattutto per sostenere lo sforzo di riqualificazione dei centri dell'impiego la discussione forte che c'è appunto in questi giorni soprattutto quella sui navigator se devono essere regionali se devono essere centrali noi chiedevamo all'aggiunto l'impegno per uscire da questo impasse e impegnarsi in maniera forte perché è la regione poi che gestisce i centri per l'impiego so anche che l'assessore regionale comunque ha partecipato ai tavoli ed è stato anche propositivo però la maggioranza quindi in consiglio invece c'è stato diciamo un attacco secondo me un po' tormentale al reddito in sé e quindi c'è stata un po' di discussione su questo un po' i temi che dicevo prima da una parte ci attaccano perché ci sono spendiamo troppi soldi ma la platea è troppo piccola da un'altra parte lasciamo la gente sul divano ma gli mettiamo troppe clausole la discussione è stata su questo e io non ho concordato ovviamente siamo arrivati a trattare questo argomento nel momento giusto perché è arrivata anche Nadia Rossi diamo il buonasera anche a lei buonasera anche a voi e scusate per il ritardo abbiamo una decina di minuti insomma possiamo fare un fuoco di fila di domande non so se ha sentito l'ultimo intervento di Bertani critico insomma ha detto insomma che a livello regionale il PD un po' sta cercando di boicottare o ha cercato di boicottare il reddito di cittadinanza non so se vuole rispondere beh intanto parto dicendo che ho ascoltato tutta la trasmissione fin qui ovviamente le cose che potrei in qualche modo contestare al collega Bertani sono numerose sono diverse per quanto riguarda l'ultimo argomento che è stato affrontato beh che dire per una misura come questa indubbiamente importante indubbiamente fondamentale per il contrasto alla povertà del territorio italiano e delle persone purtroppo che si trovano in una situazione di povertà era fondamentale fin da subito iniziare un percorso di coinvolgimento di tutti gli attori principali che si occupano appunto di povertà a iniziare dalle regioni che comunque si occupano di politiche attive sul lavoro a terminare anche al territorio rappresentato in questo caso dai comuni con i propri sportelli sociali ma coinvolgendo indubbiamente tutto il terzo settore tutte le associazioni tutti coloro anche il centro dell'impiego che ad oggi non ha nessun tipo di informazione cioè non sa nemmeno se dovrà essere il centro per l'impiego che dovrà chiamare le persone che hanno iniziato il percorso oggi attraverso i CAF all'Inps telematicamente oppure se saranno le stesse una volta che hanno avuto l'autorizzazione a doversi recare al centro per l'impiego quindi disponibilità ce n'è indubbiamente per collaborare tra l'altro è stato richiesto e strutturato un tavolo con il ministro competente il ministro Di Maio insieme a tutti gli assessori delle politiche del lavoro della regione proprio per cercare di affrontare le problematiche che poi alla fine riguardano le regioni e i territori quindi poco coinvolgimento c'è stato su questo provvedimento da parte del movimento Bertani vuole rispondere? Sì diciamo quello ripeto quello che dicevo prima era urgente farlo partire ma poi le parti sociali tutti gli attori in questi giorni sono state ascoltate durante tutte le audizioni e ognuno poi ha portato il suo pensiero e le sue critiche ma anche le sue proposte come Bertani si è parlato anche del REI in modo particolare che è il reddito di inclusione a livello nazionale a livello regionale c'era anche stata l'introduzione del RES so che sono sistemi sono sussidi che si assomigliano però ci vuole spiegare un po' in cosa consisteva il RES ma diciamo che inizialmente il RES era diventata quella politica che la regione Emilia Romagna in modo strutturale aveva messo a disposizione delle fasce di persone in fasce di povertà della nostra regione che venivano di fatto escluse dal provvedimento nazionale in seconda battuta nel momento in cui è stato modificato il provvedimento nazionale che è stato allargato a tutte le figure tutte le persone che sono sotto la soglia di sopra di povertà ha ampliato il contributo che arrivava a livello nazionale quindi è stata per noi una misura importante una misura che voleva dare una risposta vorrebbe dare una risposta ma come sappiamo con l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza decadono tutta la possibilità di adozione dei sistemi precedenti a livello nazionale e voleva dare appunto una risposta importante in questo senso cosa dire la regione Emilia Romagna ha investito tantissimo su un provvedimento di questo tipo ha trovato 35 milioni di risorse proprie da aggiungere appunto a quello che già veniva erogato dal livello statale e devo dire che nonostante fosse anche una proposta condivisa per esempio da alcuni membri del gruppo 5 stelle in regione perché erano 5 e ora sono 4 se lo si chiede ad ognuno di loro è facile che diano un'interpretazione diversa rispetto alla bontà o meno della norma regionale alla fine comunque in aula si sono stenuti a proposito del voler sostenere assolutamente un qualcosa a contrasto del reddito della povertà Bertani aggiungo qualche precisazione in regione Emilia Romagna noi presentammo a inizio legislatura già un progetto di legge che chiamavamo reddito di cittadinanza regionale ovviamente quel progetto di legge noi siamo minoranza fu una proposta che non fu approvata e nacque il res regionale la prima proposta su questa prima proposta noi ci astenemmo perché secondo noi non rispondeva adeguatamente ai bisogni delle persone in difficoltà tanto che la soglia era troppo bassa era solo di 3.000 euro di sé dopodiché dopo 8 mesi il reddito il res regionale fu modificato quando fu modificato e la soglia passò ai 6.000 euro e fu inserito anche un aspetto un po' più significativo di attivazione che era quello che noi chiedevamo perché il res di per sé non prevedeva una vera propria attivazione dal punto di vista lavorativo allora votiamo a favore e visto che sono capogruppo in regione posso assicurare che questo è il punto di vista del Movimento 5 Stelle regionale tranquillizzata no no perché dimentica di dire che i capogruppo cambiano ogni 6 mesi ogni anno ogni anno quindi in 5 anni quasi ci sono stati 5 capogruppi diversi con idee sostanziali diverse rispetto alle azioni da compiere da portare avanti e da scegliere sulle quali investire in regione comunque detto questo il reddito di cittadinanza invece volevo sapere insomma ha detto di aver ascoltato anche la parte precedente della trasmissione ma cosa non la convince di questo reddito ribadisco l'importanza di attuare delle scelte e delle norme a contrasto della povertà e questa si vuole chiamare tale io posso dire che quello che apprezzo lo metto anche tra parentesi o tra virgolette è indubbiamente il coraggio di averci voluto investire almeno al momento apparentemente cosa che lo ammetto per quanto riguarda la misura prevista dal partito democratico nel momento in cui era governo è stata limitata ma ovviamente è stata limitata per motivi economici il movimento 5 stelle che oggi ha investito per l'anno in corso 7 milioni e passa 7 miliardi e passa di euro dovrebbe dire che 2 milioni e mezzo arrivano dal provvedimento Renzi dei Gentiloni quindi arrivano dal REI in realtà e 4 sono stati trovati nella sfera del bilancio statale gli altri previsti per le annualità successive quindi 20 e 21 sono ancora da trovare al momento vengono giustificati con come copertura con l'aumento dell'aliquota IVA oppure cosa che comunque è fallita con una contrattazione a livello europeo cioè noi ricordiamo che è aumentato il deficit quindi c'è un rischio importante quindi un punto interrogativo sulle risorse che devono essere trovate un grandissimo punto interrogativo sulle risorse che devono essere trovate dopodiché io ho dei forti dubbi anche sull'accelerazione che è stato dato a un processo di questo tipo qui che ancora non ha terminato a livello parlamentare il proprio ITER e però oggi già i cittadini grazie alla disponibilità dei lavoratori di tutti i CAF dell'IMS che ci tengo anche a ringraziare personalmente possono ecco i cittadini possono recarsi nei luoghi destinati predestinati per compilare le domande domande che una volta che vengono fatte ecco l'ITER è stato illustrato anche prima dall'operatore dell'ACLI che avete intervistato ma che io vorrei dire cioè la povertà non è sempre ed esclusivamente una causa che arriva alla gente alle famiglie alla persona per mancanza di lavoro può essere possono essere tantissime le motivazioni per cui le persone si trovano in uno stato di povertà possono essere questioni di salute possono essere questioni di gestione di famiglia possono essere questioni di difficoltà particolari specifiche ecco in questo caso qui si tiene conto uno è povero abile arruolato io gli trovo il lavoro permesso che si trovi perché abbiamo un tema lavoro e dei dati a livello nazionale sia in termini di occupazione sia in termini di investimenti che io sono preoccupata sono preoccupata che tutte queste persone che oggi allegramente e anche in modo fiducioso con fiducia si sono recati ai CAF purtroppo possano essere presto disilluse e tutta questa accelerazione nonostante la disorganizzazione nonostante il non voler e non aver voluto coinvolgere sin da subito al contrario di quello che è caduto con il REI che è stato un parto lungo e noi come norma l'abbiamo fatta noi di sinistra quando eravamo al governo è stato un parto lungo ma è stato un parto lungo perché prima abbiamo voluto mettere a regime come dicevo tutti quegli attori che devono essere coinvolti perché una persona che è uscita dal mercato del lavoro supponiamo un ultra 50enne o 55enne che esce dal mercato del lavoro vista la crisi che si deve reinventare deve comunque seguire un percorso di formazione professionalizzante anche che possa in qualche modo garantirgli una specificità diversa rispetto a quello che aveva deve essere preso in carico deve essere accompagnato bisogna capire quali sono anche le sue capacità e collaborare sulle capabilità delle persone a tutto fondo sia per quanto riguarda quelli attivi nel mondo del lavoro ma anche coinvolgendo le persone che non per particolari problemi non hanno questo tipo di capacità però era stata strutturata una tax force la voglio chiamare così un gruppo da sostegno di persone di tutte le persone in modo tale che se non si aveva risposto nel mondo del lavoro comunque si poteva avere diversamente c'era un'attenzione maggiore cosa che qui manca quindi mi pare anche di capire lei dice non è solo la discriminante lavoro a mettere una persona in difficoltà ci possono essere tutta una serie di altri elementi e in questo caso col reddito di cittadinanza ci si focalizza solo sul termine occupazionale Bertani non sono d'accordo perché appunto come dicevo prima il reddito ha due pilastri uno quello occupazionale quindi la formazione e grazie anche ai navigator ai centri dell'impiego e poi l'incrocio di domanda offerta e l'altro è quello del patto di attivazione sociale cioè chi in questo momento non può essere riattivato dal punto di vista lavorativo viene comunque sostenuto e tutto quel pezzo del REI in realtà non viene buttato via perché i servizi dei comuni vengono finanziati anzi aumentano le risorse anche per questa cosa qui quindi sono contento di quello che diceva comunque anche Nadia perché mi sembra di aver capito che dal punto di vista filosofico ci siamo cioè è una misura che di per sé è importante come sostegno alla povertà perché ho sentito altri suoi colleghi che invece anche dal punto di vista filosofico sono critici tanto appunto che vogliono raccogliere le firme per abrogare la norma poi dal punto di vista dell'applicazione della modulistica o dei tempi possiamo discuterne ma io ritengo che il lavoro che è stato fatto in questi mesi dietro le quinte quindi di organizzazione di messa in comune fra le poste l'Inps e i centri per l'impiego e i tavoli fatti con la regione sia un lavoro che darà i suoi frutti e che sta cominciando già da oggi a darli Rossi Io mi chiedo come verranno attivati i comuni in che modo in che termini per riuscire a dare le risposte che diceva prima il consigliere Bertani dice che ci sono tante risorse cioè parto dall'annuncio del governo a parte che è annunciato a settembre dal balcone che avevano già abolito la povertà soltanto annunciandola vorrei capire dal consigliere Bertani quali saranno poi e quando arriveranno le risorse per poter strutturare e migliorare i nostri centri per l'impiego perché noi siamo abituati ad oggi con questo governo ad una mera ed esclusiva propaganda politica di annunci finalizzati a consensi elettorali che ahimè non vanno nel senso del 5 stelle ma bensì c'è chi sta cercando di prosciugare un pochettino tutto il serbatoio e ci sta riuscendo anche bene a discapito delle politiche anche che ci stiamo in qualche modo sulle quali ci stiamo in qualche modo confrontando adesso e i navigator chi sono quanti saranno ancora non si capisce non si capisce chi dovranno essere io non credo che possa essere chiunque io credo che queste persone che dovranno intanto avere un contratto co 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 che va bene va bene insomma lascio a voi l'interpretazione con una durata di 24 mesi a parte che rischiano di essere più poveri una volta finito quel tipo di attività di quelli che accompagnano alla ricerca di un lavoro ma per fare questo tipo di attività occorre una formazione cioè occorre non basta prendere una persona qualsiasi che abbia bisogno di lavorare assumerla assumerla concedergli un contratto di collaborazione continuativo e dirgli che deve accompagnare queste persone alla ricerca del lavoro cioè è necessario parlare con la gente approfondire quelli che sono i disagi ma certo se vogliamo portare in fondo abbiamo in parte già affrontato il tema prima ma sentiamo di nuovo la risposta di Bretani anche perché ci resta un minutino di trasmissione quindi andiamo a sintetizzare gli ultimi temi per quanto riguarda appunto il finanziamento erano previsti 130 milioni di euro per sostenere i servizi sociali che faranno la parte di attivazione sociale nel bilancio di quest'anno ce ne sono 350 quest'altro anno ce ne sono 590 quindi si prevede appunto di sostenere i servizi sociali per quanto riguarda le assunzioni nei centri per l'impiego ne sono previsti 4 mila a carico delle regioni e gli vengono dati i fondi e sono previsti 6 mila acquisiti tramite ANPAL qui c'è ancora appunto una discussione con le regioni perché le regioni dicono ci servono più impiegati ma velocemente e la soluzione proposta da Di Mai è quello li assumiamo noi con un contratto a tempo determinato dopodiché le regioni avranno tutto il tempo di fare i concorsi per eventualmente se ne hanno necessità riassorbirli perché ci sono regioni come la nostra in cui centri per l'impiego pur funzionando diciamo ad un livello non eccelso sono abbastanza strutturati e regioni che non sono assolutamente strutturate tanto che quando si è cominciato a ragionare di reddito di cittadinanza le regioni cominciavano a dire non ce la faremo mai perché i centri per l'impiego non sono strutturati quindi che si decidano o non sono strutturati gli diamo i 6.000 navigator oppure sono strutturati e non ne hanno bisogno l'ultima battuta la lasciamo a Nadia Rossi io vorrei sottolineare la preoccupazione comunque di una manovra di questo tipo qui che come dicevo ha visto un'accelerazione importante nonostante ancora non sia terminato l'iter in Parlamento e non vorrei cosa che non posso ovviamente evitare di pensare possa essere una manovra tale che diciamo riesca a derogare rapidamente il maggior numero possibile di contributi anche a prescindere da qualunque azione di inserimento lavorativo possa essere indirizzato il soggetto che ne fa richiesta nei prossimi mesi più che mai quindi più che di interventi di attivazione esistesse proprio una come dire una distribuzione a pioggia di risorse ricordiamoci che siamo in prossimità di una campagna elettorale che riguarda le nostre amministrazioni e anche la comunità europea quindi per l'Europa per l'amministrazione dei comuni prima ancora di riuscire a vedere se si riesce a mettere in campo se riesce a partire memoria anche dell'esperienza del re che comunque non è stata semplice è stata comunque macchinosa anche se è partita coinvolgendo tutti qui si parte senza coinvolgere perciò bisogna a ritroso rifare tutto quanto un lavoro che rischia come dicevo di illudere a breve le persone perché magari si vedranno erogare dei finanziamenti ma che non saranno dei finanziamenti utili per farli uscire dalla fascia di povertà che è quello che ovviamente a noi sta più a cuore siamo arrivati in conclusione io ringrazio Andrea Bertani 5 Stelle Nadia Rossi del Partito Democratico speriamo di aver fatto un pochino di chiarezza sul reddito di cittadinanza naturalmente se ne parlerà ancora tanto noi ci ritroviamo la prossima settimana grazie a tutti